Cristiani di nome e di atteggiamento ma con il cuore e nell'interesse. Papa Francesco nella messa del mattino a casa Santa Marta mette in guardia da uno dei pericoli più insidiosi, la mondanità e quindi l'ipocrisia. Ripercorrendo il valgiaro di Giovanni sottolinea lo stupore della gente dinanzi ai miracoli di Gesù, del loro seguirlo però solo per interesse personale. Un atteggiamento assunto anche dai figli di Zebedeo è l'annuncio dell'anno di grazia che si perde e si trasforma in desiderio di potere. Scivolare verso la mondanità sottolinea il Papa indebolisce la fede, la missione e la chiesa. Basterebbe seguire i santi, martiri che ogni giorno con la loro vita annunciano l'anno di grazia. Basterebbe semplicemente credere, avere fede in Lui, fiducia in Lui e non nelle altre cose che ci portano lontano dal Signore. Anche il diavolo tentò Gesù ricorda il Papa con il pane, lo spettacolo e l'apostasia, l'adorazione degli idoli. E questa è una tentazione quotidiana dei cristiani, nostra. di tutti noi che siamo la Chiesa. La tentazione non del potere, della potenza dello Spirito, ma la tentazione del potere mondano. E così si cade in quel tepore religioso al quale ti porta alla mondanità, quel tepore che finisce quando cresce, cresce e cresce, quell'atteggiamento che Gesù chiama ipocrisia. Grazie. 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 Grazie.